Ma come siamo passati da questi grandi felini ai gatti? I grandi felini, tra i più maestosi predatori del pianeta, traggono origine dai primi carnivori, evolutisi milioni di anni fa. Questi antenati comuni hanno sviluppato adattamenti cruciali per la caccia. Nonostante le differenze di dimensione e habitat, grandi felini e gatti domestici condividono molte caratteristiche. L'addomesticamento dei gatti ebbe inizio circa 9.000 anni fa. Le prime testimonianze provengono da siti archeologici in Cipro e Mesopotamia, dove i gatti erano associati alla protezione dei raccolti. A livello genetico e comportamentale, i felini domestici differiscono notevolmente dai loro cugini selvatici. La domesticazione ha attutato la loro aggressività e ha favorito tratti più docili e socievoli. Gli antichi egizi giocarono un ruolo fondamentale nell'addomesticamento dei gatti, venerandoli come dei e associandoli a divinità come Buster, protettrice di casa e famiglia, simbolo di fertilità e maternità. La selezione naturale e quella artificiale hanno influenzato diversamente l'evoluzione dei gatti. Mentre la natura premia l'adattabilità, l'uomo ha selezionato tratti specifici per estetica o comportamento. L'influenza culturale dei gatti si manifesta nell'arte e nella mitologia di diverse civiltà. Da divinità egiziane a muse ispiratrici nella letteratura moderna, i gatti sono simboli universali di mistero e indipendenza. Mi dispiace interromperti, sono la persona che edita il video. Ti volevo solo dire che il 99,8% di voi non è ancora iscritto. Quindi se ti sta piacendo il video, mi farebbe un grande piacere se ti iscrivi. Ci vuole poco tempo e puoi disiscriverti in qualunque momento se cambi idea. Ora ti lascio il video. Durante le antiche rotte commerciali, i gatti furono trasportati per il mondo, adattandosi a nuovi ambienti e mescolandosi con le popolazioni feline locali, aumentando così la loro diversità genetica. I gatti domestici hanno sviluppato adattamenti fisiologici unici per coabitare con gli umani, come miagolii più frequenti e accattivanti, per comunicare efficacemente e suscitare cura e attenzione. Con il passare dei secoli, la diversificazione delle razze di gatti domestici è cresciuta notevolmente. Ogni razza presenta caratteristiche uniche, spesso accentuate attraverso la selezione intenzionale da parte dell'uomo. La scienza ha svolto un ruolo cruciale nell'illuminare l'evoluzione dei gatti. Studi genetici e archeologici hanno permesso di tracciare la loro domesticazione e adattamento alle società umane. Tra le eredità comportamentali che i gatti domestici hanno ricevuto dai loro antenati grandi felini, notiamo la caccia, l'agilità e il comportamento territoriale. Questi istinti sono evidenti anche nei giochi quotidiani. L'introduzione dei gatti nelle case ha cambiato notevolmente il loro impatto ecologico. Ad esempio, in alcune aree, i gatti domestici hanno influenzato le popolazioni locali di uccelli e piccoli mammiferi. La ricerca genetica ha rivelato come la domesticazione abbia influenzato il DNA dei gatti. Mutazioni specifiche hanno favorito caratteristiche desiderabili, come la docilità, che differenziano i gatti domestici dai loro antenati selvatici. Il fenomeno della domesticazione dei gatti è diventato globale. Gli esseri umani hanno portato i gatti in nuovi ambienti, spesso come compagni di viaggio, influenzando così la biodiversità e le culture locali. La conservazione dei grandi felini è una responsabilità umana cruciale. La perdita di habitat e la caccia illegale minacciano continuamente la loro esistenza, spingendoci a rafforzare gli sforzi di protezione globale. Nella società moderna i gatti sono passati da predatori a compagni domestici amati. Questa trasformazione ha influenzato significativamente il loro comportamento e le interazioni con quegli esseri umani. Le tecnologie avanzate e i nuovi strumenti sono essenziali per studiare l'evoluzione dei gatti. Tecniche come il sequenziamento del DNA e l'imaging biomedico offrono insight preziosi sulla loro biologia e storia. I gatti occupano un posto di rilievo nel mondo digitale e mediatico, diventando protagonisti di meme, video virali e campagne pubblicitarie, riflettendo il loro ruolo iconico nella cultura popolare. Le prospettive future nella relazione tra uomini e gatti potrebbero vedere un aumento nell'adozione di pratiche sostenibili e rispettose del benessere animale, garantendo una convivenza armoniosa e rispettosa. Se questo video vi è piaciuto, forse vorrete vedere anche questo. Lì parlo di come i lupi si sono evoluti in cani. Grazie per la visione.